Ioano cominciato da Luigi Covata che è il direttore di Mondo Operaio che ha ospitato questo spirito dell'antipolitica che è la portfazione al al testo l'anno scorso insomma ci siamo conosciuti grazie a Edoardo Crisafulli che è un finissimo spioso autore del bellissimo libro che si chiama Le Ceneri di Craxi e che è un altro demonio associativo nel senso che io credo che per noi parlare di Craxi è sempre un po' complicato perché rischiamo sempre di oscillare fra la geografia e la denigrazione molti nostri amici e compagni si considerano vittime degli errori di Craxi che ci sono stati molti altri pensano che la vittima sia stata Craxi e tutti noi con lui per colpa delle forze oscure della rivoluzione in Aguato e quindi non è stato facile nel corso di questi quasi vent'anni di seconda repubblica ricorda a me stesso quel fascismo sul lato vent'anni però trovò un suo ubico system politico-istituzionale dopo qualche anno dall'asceso al potere di Mussolini questi invece vanno buttati ma questo è un altro discorso e quindi io ho trovato molto importante che cose che avrei potuto scrivere io con minore felibilità le avessi scritte tu anche perché mi hanno fatto tante vere che quando poi mi sono trovato a dover fare un numero della rivista sul decennale della morte non a caso ho scelto di procedere solo non socialisti da Giulio Sapelli a Nescovelli della Loggia da Chico Fuglia a Piero Craveri da Frank Cimini ad altri nessun socialista proprio per ricollocare la figura di Craxi e del socialismo italiano nella storia di questo paese una storia che non è fatta solo dai protagonisti politici nel bene e nel male il prezzi diceva prima andando in cerca dell'assassino i comunisti che non stando nello stesso ordine di idee si potrebbe anche ricordare quello che all'epoca fecero i fascisti quello che all'epoca fecero quel signore che andò col cappio nell'aula di Montecitorio e spiace che non venne sanzionato come il Presidente della Camera avrebbe dovuto fare e questo è un paese di persone di dubbia legalità che quando trova l'opportunità di avere un capo o più capi espiatori per recuperare purificarsi lo fa molto volentieri e il problema di incivilire questo paese che in questi giorni sfoglia avidamente le deline che sotto forma di interpretazioni vengono diffuse sui giornali ai miei tempi dopo la strage di Piazza Fontana ci fu un giornalista del Corriere della Sera che venne licenziato perché pubblicava le veline della Costura adesso le veline della Procura fanno volare le vendite ma questo è un altro discorso dicevo questo popolo che è indifferente alla gravità delle violazioni di legalità che vive indifferentemente a Napoli a Palermo a Pugio Calati in situazioni e che oramai ha ridotto a bene di consumo anche l'indignazione quotidiana delle case di scaiola quelle di incalza non so chi io non sto in affitto quindi non mi tengo il capo il mio ideale è un paese che bisogna più delle chiacchiere mie di quelli che fanno gli analisti delle emozioni che siete in grado di trasmettere voi per fare la revisione quindi io spero che l'audiodramma che non ho più spito cos'è se ci interconerete che sono del secolo scorso in grado di trasmettere la versione radio diciamo il libro le repliche che mi auguro saranno numerose frequentate contribuiscano a cambiare a colpire la pancia prima del secolo perché finché non cambia la pancia degli italiani la seconda la terza la quarta la quinta la quinta la repubblica il problema non si risolte per essere il frutto di ricerca storica e anche qui l'altro giorno del mese scorso abbiamo portato al capo dello Stato il cofanetto dei cinque volumi che abbiamo prodotto nel corso di questi anni sul governo Craxe e ci siamo resi conto noi stessi che i primi due volumi che risalivano a una decina avanti fatti o meno più remoti noi stessi li avevamo intitolati con qualche cautela nel senso che c'era un volume che era la politica estera italiana negli anni 80 persa per chi c'era dove ne quindi anche la storiografia perfino quella partigiana di cui io posso essere complice ha subito questa forma di auto censura di statement figuriamoci quella non partigiana o quella partigiana nel senso opposto comincia a circolare un po' di riflessioni su quello che è successo dopo noi aspettiamo aspettativa anche senza avere un'aspettativa di vita troppo lunga la resa dei conti di quello che è successo dopo non è lontana la geometrica potenza del bipolarismo italiano si stia squagliando come c'era sotto la luce